Non ci sono ancora elementi certi sull'identità del cadavere privo di documenti ritrovato nel rimorchio di un tir proveniente dalla Turchieda prodato alla ditta Scilogistik di Agnadello, dove è venuta la macabra scoperta. Dalle lastre effettuate sulla salma, tuttavia, sembrerebbero appartenere ad un uomo di giovane età, se non addirittura un minorenne. La datazione precisa dell'età verrà stabilita da un esame più analitico. Dalle etichette, inoltre, dei pantaloni, si suppone possa provenire dalla Siria, prevista in ogni caso l'autopsia, che il medico legale eseguirà a breve. Saranno poi prese le impronte che saranno immesse nelle banche dati per tentare di identificare il corpo. Il decesso avvenuto durante il viaggio è quasi sicuramente riconducibile al caldo e alla mancanza di cibo e acqua. Le indagini dei carabinieri portate avanti con il coordinamento della procura sono in corso, ma per il momento non ci sono ipotesi di reato. Si presume che il ragazzo, all'insaputa dell'autista, si sia nascosto nel rimorchio, arrivato via mare dal porto di Trieste, o che magari abbia avuto un'indicazione da parte di qualcuno di salire su quel mezzo che lo avrebbe portato in Italia. Ma si tende a discludere che dietro ci sia un'organizzazione dedita allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Solitamente, infatti, non si nasconde solo una persona, ma interi gruppi di clandestini. Si tratterebbe quindi di un'iniziativa personale del deceduto.